Utilizzando un antico metodo giapponese, la stilista di Porto Torres Antonella Fini ha creato la prima sciarpa in setta ecologica tinta con le bacche del Mirto, un'anteprima della ricca collezione che sarà presentata il prossimo anno ad Olbia nell'ambito dell'evento Mirto. Sull'antico metodo Shibori, alla base della lavorazione delle sette, abbiamo sentito Antonella Fini. Il settore della moda è sicuramente uno dei principali responsabili sull'ambiente. Faccio solo un esempio. La moda è fatta di tendenze. La tendenza ha una vita molto breve. Per coltivare un chilo di cotone ci vogliono 11.000 litri d'acqua. Spesso i rifiuti non sono biodegradabili, quindi vi lascio immaginare cosa è responsabile in questo caso la moda. Io facendo parte del settore mi sento responsabile. Ecco che penso che dobbiamo svegliare un po' tutte le coscienze. La mia coscienza me l'ha data sicuramente la mia malattia che mi ha portato a pensare che possiamo fare di più. Quindi nei momenti in cui io non sono in grado di lavorare, allora studio. Ed è in questo momento che io ho studiato le erbe tintorie. È da lì che è nata una nuova vita. Grazie. Grazie. Grazie.